E' una, voi! Stai andando! Tutti in giù! Ok, allora, ci prendiamo le mani Di qua Tira Di qua Venga Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Numero 8 Sizzina Ultima destra Stai andando una zona, va una, una, una Sizzina Di qua E adesso facciamo la sfida Contra un uomo Contra un uomo Contra un uomo Prima dei donne I ragazzi che dicono Ai, ai Uomini Asì, asì Guardi Ci stanno passapando Uomini Asì 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 Ci colleghiamo Concentrazione A dentro E piano Parano indietro Sizzina Sizzina Prima 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 Uomini Asì 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 I un uomo Aiutami Asì 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 E allora con noi Asì Asì E le facciamo un applauso Sì